Come uno scultore usa il marmo per fare le sue creazioni, io uso il sushi per fare le mie sculture. Mi chiamo Yu Jaú, sono basato a Milano e creo arti con sushi. Io combino l'arte alle abilità di un sushi chef. Milano è una del capitale della moda e questo ha influenzato sulle mie creazioni. Ho creato per esempio palle da basket, luogo di munch, rapper, scarpe. Per creare un pezzo posso immetterci 5 minuti o 4 ore. Io nelle persone cerco di suscitare in loro un'emozione. Il mio sushi dopo che ho finito non sempre riesco a mangiarlo. Io sono andato in una piccolissima città di montagna vicino a Shanghai. Io cerco sempre il fattore wow quando creo qualcosa. Il mio background, la mia cultura, io inserisco nella mia arte un'altoralezza. Il mio modo di esprimermi. Sono riuscito a raggiungere praticamente tutto il mondo con le mie creazioni. Io non ho la tua di un'altoralezza. Io sono andato in un'altoralezza. Grazie a tutti